Oggi il primo dei due corsi riservati agli allenatori giovanili di tutti gli sport, una grande presenza, una partecipazione da tutta la provincia. Sì, segno questa grossa partecipazione della necessità che si ha di svolgere questi corsi nel nostro territorio. Il corso si svolge in due settimane per l'età riservata a 16 anni e a settembre faremo il secondo modulo riservato ai ragazzi da 11 a 14 anni. Si toccheranno tutti gli aspetti psicologici, fisiologici e tecnici delle varie specialità. Abbiamo avuto una grossa partecipazione, saranno circa 45 mi sembra i presenti oggi per l'inizio delle attività. E questo, oltre ai contenuti che verranno dati dai docenti, servirà per confrontarsi perché le federazioni e le società rappresentano una ventina di specialità completamente diverse. Diventa fondamentale in questa fascia d'età soprattutto che si pensi a creare i presupposti perché domani si possa veramente mettere in atto l'allenamento per la prestazione. Cioè noi normalmente in queste fasce d'età ai bambini viene fatto fare esattamente quello che fanno gli adulti facendogli uno scontro. Fanno le stesse cose ma non c'è nessuna differenza. Mentre la differenza non è quantitativa, è semplicemente qualitativa. I bambini devono sviluppare delle competenze che sono strettamente legate allo sviluppo psicologico e auxologico in ogni fascia d'età.